La Fiera di Primavera è a Sesto Fiorentino, dal 23 marzo al primo aprile, la grande fiera campionaria nel centro della città. Uno spazio espositivo coperto di 3000 metri quadri, artigianato, industria, auto e moto, agricoltura e giardinaggio, gastronomia e prodotti alimentari. La Piazza della Solidarietà, una città in festa, a Sesto Fiorentino, dal 23 marzo al primo aprile, con spettacoli e incontri per tutte le età. Grazie